Trasferta, questa volta a Bosicio Parini, nella sede della nostra famiglia, una grande istituzione che segue, cura e riabilita i ragazzi con problemi di handicap mentale e soprattutto dove c'è la prima scuola calcio dedicata a loro, curata dalla Briantea 84. Giorgio, come finisce qui un ingegnere? Finisce qui perché tutto è cominciato per gioco, io ho fatto tutta la parte giovanile, ho giocato a 11 fino agli juniores, poi un anno si era un po' disgregato il gruppo, da lì un amico mi dice ma va, tanto vai lì, fai un allenamento alla settimana, così, dopo un mese era diventato già più impegnativo di quello che era il mio allenamento e poi siamo andati avanti. Diciamo che la scintilla nasce quando ti accorgi che attraverso lo sport stai ottenendo dei risultati che sono incredibili, cioè sono molto di più di quello che alcuni ragazzi riescono a ottenere attraverso altri percorsi. Tu hai preso anche il patentino allenatore per fare questo? Sì, sì, ho preso in realtà quest'anno il patentino di allenatore FGC di Calcio 5, nel senso che la cosa che ritengo doverosa è insegnare a dei ragazzi con delle conoscenze adeguate, quindi non deve essere un tanto per fare secondo me, ma deve essere un allenamento serio con delle basi e quindi mi andava di prendere le basi, oltre ad altri corsi che avevo già fatto, questo qua era il più serio. Tu sei anche l'allenatore delle squadre della Briantea e in più questo della scuola calcio qui a Bosiso, ecco, che differenze ci sono tra la squadra di adulti, la prima squadra diciamo, e questi ragazzini della scuola calcio? Sicuramente come metodo bisogna usare due metodi completamente diversi, come li si utilizza d'altronde con i ragazzi normodotati. Sicuramente qui si basa tutto, praticamente tutto sul gioco, quando non c'è il gioco, come avete visto all'inizio allenamento, cerco comunque di avere, anche quando devo fare una parte analitica, cerco di avere comunque un qualcosa che gli dia divertimento, quindi ad esempio utilizziamo la musica, utilizziamo dei palloncini, utilizziamo tantissimi colori, insomma deve essere tutto divertimento, con i grandi non sempre deve essere divertimento, i grandi diciamo che hanno più in mente qual è l'obiettivo a lungo termine senza doverli far divertire tutti gli allenamenti. Quello che c'è invece che accomuna tutti, sia i grandi che i piccoli, è che la cosa basilare secondo me con i ragazzi con disabilità è il discorso di conoscerli benissimo, cioè io il primo anno, mezzo anno che ho fatto con i ragazzi da scuola calcio ho cercato prima di tutto di conoscerli, nel senso che i ragazzi vanno conosciuti uno a uno e con ognuno bisogna sapere che bisogna comportarsi in maniera completamente diversa. A volte da fuori sembra strano vedere come uno con alcuni urla, con altri invece li prende da parte, con altri non può neanche finire l'allenamento, poi prenderli da parte e questo si ottiene solo attraverso la conoscenza di questi ragazzi. La soddisfazione più bella di questi anni di impegno? Quando si vede i risultati dopo un anno, l'anno scorso dopo un anno di scuola calcio, dico scuola calcio perché sono i ragazzi con cui si vede lo sviluppo più velocemente, d'altronde sono ragazzini e quindi sono nell'età in cui lo sviluppo è più ampio, sia sotto il profilo calcistico sia sotto il profilo educativo, con educativo inteso come tirar fuori, educare, quindi non solo come comportarsi bene, c'è di più. È una struttura specializzata per la riabilitazione di ragazzi con disabilità in età evolutiva, articolata in tre grossi comparti, l'Istituto di ricovero e cura carattere scientifico, che è un ospedale per bambini, per la diagnosi e la ricerca, il centro di riabilitazione che accoglie bambini per periodi di trattamento di più lunga durata che non l'ospedale e ha al proprio interno una unità residenziale con 40 bambini residenti e la squadra di calcio è formata prevalentemente da bambini residenti durante la settimana, che vanno a casa solo il fine settimana. E poi un diurnato, un diurnato riabilitativo di 250 bambini e un ambulatorio di riabilitazione che accoglie bambini del territorio per trattamenti di fisioterapia, di logoterapia, di psicomotricità, di trattamento psicoterapico in alcuni casi, di sostegno alle famiglie, perché si tratta sempre di bambini con disabilità, anche talvolta gravi e complesse. E poi il terzo settore di presenza, di attività qui a Bosisio è la formazione. Noi abbiamo dei corsi di laurea universitari in convenzione con l'Università Statale di Milano, sono tre corsi di laurea, corsi di formazione superiore, corsi di specializzazione per operatori che vogliono acquisire delle competenze o profili professionali nell'ambito sanitario. Sette padiglioni, 250.000 metri quadri. Il primo padiglione è nato tra il 60 e il 63. è stato costruito, posata la prima pietra nel 60, nel 63 l'inaugurazione e poi man mano sono cresciuti gli altri padiglioni, fino ad arrivare a 7. L'ultimo è quello che ospita l'Istituto Scientifico e risale al 2004. Gli impianti sportivi sono in questa zona del centro, come vedete ci sono ampissimi spazi verdi, c'è una piscina che ha una parte sportiva e una parte terapeutica e accoglie migliaia di bambini anche provenienti dal territorio, quindi bambini normali che vengono qui e che fanno l'attività in acqua. Abbiamo anche una squadra agonistica di nuoto, di ragazzi associati alla Federazione Disabilità Intellettiva. Siccome il nostro centro è specializzato in attività nell'età evolutiva, noi riteniamo di essere un po' un vivaio per altre società che poi proseguono, come la variante 84, noi non abbiamo l'aspirazione di diventare una società agonistica, abbiamo l'aspirazione di far crescere bene dei bambini, di coltivare anche la parte non soltanto di curare la disabilità, ma di coltivare la parte di normalità che ha ciascuno, e quindi le sue doti e le sue potenzialità, considerando che i bambini sono prima di tutto dei bambini, prima che di essere persone con disabilità. Gioco a pallone da 15 anni, da tanto tempo, e adesso sto facendo questa esperienza da allenatore, che un domani vorrei fare l'allenatore, perché un domani che smetto di giocare voglio allenare. Come ti trovi qui con i ragazzini? Con i ragazzini mi trovo bene, aiuto molto i ragazzini, perché la prima cosa che devono imparare è il gruppo, poi di divertirsi, e di imparare a giocare bene, rispettare gli avversari, e di stare insieme sia con noi che anche con gli altri.